Svolta nelle indagini circa l'omicidio della strada Parco a Pescara, dove il primo agosto perse la vita a Walter Albi di 66 anni e dove rimase gravemente ferito Luca Cavallito di 49, gli agenti della squadra mobile di Pescara hanno stretto le manette e polsi di due persone ritenute di essere rispettivamente il mandante e l'esecutore materiale. Ad ordinare l'esecuzione sarebbe un pregiudicato nato a Locri, Reggio Calabria, con domicilio e base per gli spostamenti nel Terramano. L'uomo è stato arrestato a Fiumicino in un ristorante nella tarda serata di ieri, 13 febbraio 2023, e il killer invece è un pregiudicato pescarese con numerosi contatti con organizzazioni criminali. Nessun nome però è stato fatto in conferenza stampa dalla squadra mobile di Pescara, che ha eseguito i due arresti in relazione al duplice agguato avvenuto davanti ad un bar sulla strada Parco nel capoluogo Adriatico. L'agguato avvenì nello spazio esterno del bar, frequentato anche da altri avventori, con il killer che esplose quattro colpi di pistola contro Albi, altri due contro Cavallito, dandosi poi alla fuga a bordo di uno scooter ritrovato poi in zona Pantano, vicino Fontanelle di Pescara. Un evento che ha visto dialogare personaggi appartenenti a un certo spessore di criminalità con personaggi che in qualche maniera non avevano la percezione perlomeno completa di questo livello, per cui il mancato rispetto di un prestito e il mancato rispetto di un'operazione, un trasferimento transoceanico che doveva essere fatto, è stata la chiave di volta per cui è stato decretato questo duplice omicidio. Uno perché non aveva mantenuto la promessa, l'altro perché aveva presentato, quindi il soggetto che è rimasto vivo sostanzialmente, aveva il torto di aver presentato a certi ambienti un soggetto che era stato ritenuto non attidabile. Ter Albi ha sicuramente sottovalutato questo al punto che l'altro soggetto per venirsene fuori era disposto anche a cedere il proprio appartamento, pur di venire fuori da questa questione che valeva 400 mila euro, però quando si fanno certi errori in certi ambienti criminali l'onore, lo dico mille volte tra virgolette, viene ristabilito solo pagando. Il mandante è calabrese e l'esecutore materiale è un pescarese, è un pescarese legato a contesti di rapine di un certo livello, è stato anche detenuto col calabrese, è un soggetto molto molto importante legato a sua volta ad altri soggetti collegati alla banda Battestini, quindi stiamo parlando di personaggi di grandissimo spessore criminale. L'unica nello debole della catena era proprio Walter Albi, che era di fatto un professionista, che era interessato a delle operazioni finanziarie anche nell'ambito di attività amministrative, qui nella città di Pescara, il quale evidentemente era entrato un po' in un loop di bisogno di denaro, per cui chiedeva denaro in continuazione per una presunta operazione che doveva andare a buon fine a Londra. Lui ci ha remesso molte decine e centinaia di migliaia di euro e chiedeva soldi un po' a tutti e le ha chiesto anche alle persone sbagliate.